E' stato presentato ufficialmente in regione il progetto del nuovo quartiere Supernova che nascerà all'interno dell'area Ex Necchi di Pavia. Il cantiere in quella che è una delle più grandi aree dismesse della città è partito nel giugno scorso. Dopo l'abbattimento dei vecchi capannoni industriali verrà ultimata la bonifica del sottosuolo, mentre le prime opere infrastrutturali e la costruzione dei nuovi edifici partiranno entro la fine del 2023. Con la presentazione del progetto in regione si apre ora la fase delle osservazioni che potranno venire depositati in comune entro il 13 ottobre. All'interno dell'area, oltre 53.000 m2, verranno realizzati spazi residenziali e commerciali, oltre ad appartamenti quindi anche bar, ristoranti e uffici inseriti in un contesto, che prevede giardini, spazi verdi, percorsi ciclopedonali e piazze. All'interno del quartiere Supernova fa sapere la società che si occupa del progetto. Non si potrà circolare in auto, motivo per cui verranno realizzati diversi parcheggi che permetteranno di raggiungere anche la nuova fermata della S13. In tutto, la disponibilità dovrebbe essere di quasi un migliaio di posti. Nell'area sorgerà anche un nuovo centro commerciale, da circa 3.000 m2, riservato ai generi alimentari. Nella scheda di presentazione del progetto si parla di un mix funzionale, con connessioni sia a livello metropolitano che a livello locale, qualità ambientale, recupero della memoria dei luoghi, attenzione all'uso delle risorse e impegno verso i temi dell'adattamento ai cambiamenti climatici, ricucitura con il naviglio e il contesto circostante. Siamo arrivati a metà strada, prosegue la scheda, i rifiuti sono stati smaltiti, la bonifica è iniziata, l'ascolto e il coinvolgimento degli enti e del territorio è in atto, il progetto si sta concretizzando. Come detto, associazioni e singoli cittadini hanno tempo fino al 13 ottobre per presentare le proprie osservazioni. La conferenza di valutazione è fissata invece per il 19 ottobre.